Dopo due anni finalmente abbiamo riaperto il Circolo degli Anziani. Sono stato coadiuato dal mio vicepresidente e da altri soci del Circolo che ci hanno aiutato a pitturare, a rimettere a posto le sedie, pulire per terra, eccetera. Prima di tutto giochiamo a carte, facciamo una partitella, in quanto è stato notato che il gioco a coppie delle carte aiuta soprattutto le persone anziane nel tenere esercitata la memoria e di conseguenza essere più attivi nella socialità. Siamo 25-27 persone, però non tutti, oggi ne siamo molto pochi a causa del tempo cattivo. Oggi io sono felicissima perché finalmente dopo due anni di pandemia riapriamo il Centro per gli Anziani, un luogo dove tutti gli anziani di Teramo possono socializzare, possono stare insieme, e trascorrere in piena serenità le loro ore della giornata. E questo è un grande segnale che stiamo dando in questa giornata proprio perché riusciamo a ripartire, ripartire anche con tutti i nostri amici più avanti con l'età. Vediamo questa bellissima sede con tante persone all'interno, naturalmente sempre seguendo le regole del Covid. E quindi che dire, buon rinizio a tutti questi signori.